Trilogia della reincarnazione La trilogia della reincarnazione è suddivisa in tre parti. La prima parte racconta la vita di una terrorista. La seconda parte è la vita di un alcolista. La terza parte prende in esame il dopo morte della terrorista e dell'alcolista alla luce dell'insegnamento dei maestri immateriali che si manifestano attraverso grandi strumenti.